allora ciao a tutti ben ritrovati i miei discepoli torniamo laboratorio ma state chiedendo tutti tutti un acero un altro acero e stamattina come per magia è arrivato che è dal cielo così cosa potevo fare comprarlo e proporlo a tutte quelle persone che vogliono fare non so come cazzo oggi questo qui è arrivato così dal nulla non era in programma assolutamente eppure quando si presenta l'occasione visto che la gente ha visto chi sono ha visto cosa sono in grado di fare allora adesso è arrivato anche questo vi dico subito anzi vi ripeto non era assolutamente in programma quando vi avevo detto l'altra l'altro giorno che collacero era l'ultimo era veramente l'ultimo stamattina mio cliente mi ha portato questo appena l'ho visto adesso poi ve lo faccio vedere appena l'ho visto l'ho comprato ok perché primo perché bello c'è poco da dire c'è un piede della madonna e c'è una femminilità una sinuosità e vi spiego cosa manca per renderlo veramente un master esagerato c'è una pianta con due gonadi così sotto e non sto scherzando pianta che diventerà di super livello con due con due mosse e spiego tutto vi faccio vedere intanto la pianta andiamo a vedere 360 gradi come vedete è stata messa in sottola di coltivazione ottima mossa non so da quanto tempo qui però ottima mossa perché da qui ragazzi nel giro di due anni io questa qua la finisco c'è un cazzo da fare con i miei prodotti tra l'altro non ve lo dico però andiamo a vedere la è una bomba ragazzi sono troppo contento perché è una bomba è una bomba esagerata piede cos'è qui 25 30 sarà un 30 è un po anche da scoprire sì un pochettino da scoprire però abbiamo una bella spanna e mezzo tutti i rami ragazzi tutti i rami adesso con le foglie magari non si coglie bene è un pochettino da regolare un pochettino la vegetazione però questo lato mamma mia ho detto che con due mosse con tre mosse non due con tre mosse diventa una pianta della madonna ok guardate che roba questo è proprio un albero in miniatura cioè non ha tagli sopra base va su tutto conico perfetto cioè è perfetto cazzo una roba così non se ne vedevano da non so tutto te ma mi capitano chissà perché 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 sono l'unico che quando al momento tiro fuori i soldi e poi mi faccio i cazzi miei ok senza dire no però però io prendo sistemo e via se voglio rinvento scusate ma sono super esaltato in questi giorni sto veramente impazzendo quali sono le mosse da fare per trasformare questa pianta che già è un ottimo pezzo ok in una bomba da collezione come vedete la parte davanti è abbastanza spoglia quindi cosa ci manca ci mancano due rami uno qui ok proprio qui dove c'è questo questo rigonfiamento qui manca un ramo e qui ci sta benissimo questo il suo posto qui c'è sta un ramo tra l'altro c'è una cicatrice quindi qui sicuramente c'era guarda caso c'era però non so è saltato però qui va messo come si fa a metterlo con un foro col trapano prossimo anno si infila è un giochino da ragazzi con gli aceri si fa sempre e prendono tutti al cento per cento uno qui e uno qui ok uno qua uno e due due rami qua servono per andare a chiudere un pochettino qui la questione che troppo aperta cioè sembra veramente non ha non ha senso così secondo me va chiusa qui con due rami e in più me ne sono accorto prima qui e guarda caso anche qui c'era un cazzo di ramo che però è stato tagliato ed era anche molto grosso e guarda caso io ragazzi non so io porco non ho non ho detto però io dico ma si potranno far saltare tutti sti cazzo di rami che servono cioè per carità ognuno la vede a modo suo non voglio criticare nessuno anche perché comunque sia è stato fatto un ottimo lavoro che è anche con le impostazioni rami ci sono però con quei tre rami in più viene fuori una pianta che è rivendibile una volta maturata a 4 5 mila euro come niente ok perché perché adesso molti diranno però 4 5 mila ragazzi diventa una pianta da collezione cioè il collezionismo ha tutta un'altra cosa tutto un altro sapore sono quelle piante introvabili diventano che hanno tutti i rami dove devono stare tutti belli maturi cortecciati e diventa in 4 5 anni una pianta ok come una pizza fatta come si deve una bomba quindi attenzione se siete interessati sappiate che c'è solo questa cioè io in più che portarvi ragazzi le piante top che ci sono in circolo in giro e vi dico ve lo dico tranquillamente cioè non è che io le prendo faccio il video e le rivendo no cioè io le compro e poi il rischio è tutto mio il rischio sono claudio bonsai sono il numero uno però quello che vi voglio fare far capire un piccolo rischio dovete prenderlo ok e tirare fuori i soldi per avere un qualcosa di più in futuro se continuate sempre con quelle piante che sono una via di mezzo miglioreranno sicuramente soprattutto con i miei prodotti ok però quando vi prendete un pezzo che è già una bomba farlo diventare una super bomba è un gioco da ragazzi invece una pianta media farla diventare una super bomba non si fa semplicemente ok quindi questa è arrivata stamattina materiale di tutto rispetto secondo me in un negozio una pianta così 2005 ve li prendono tranquillamente io ovviamente abbasso il prezzo non è non sarà quella cifra lì però siete di fronte a una pianta che ha veramente un futuro mamma mia ma veramente cose se c'erano anche quei due rami ragazzi perché qui veramente da chiudere c'è l'apice ragazzi a un certo punto va chiuso coi rami no bellissimo femminile è un albero c'è un albero c'è il piede va su sinuoso c'ha dinamicità c'ha tutto io non so più come cazzo dirglielo considerate che fra mezz'ora non c'è più quindi pensateci giusto due secondi e poi boom ok ciao a tutti ci vediamo il prossimo video attenzione perché forse a breve ma arriva ma arriva ciao a tutti ragazzi claudio bonsai.com se volete comprare delle cose che funzionano ok con cimi che funzionano non sapete cosa comprare qui c'è il mio numero su whatsapp potete scrivermi tutte le volte che volete a patto che non siate dei barboni ok ciao a tutti